Riprendiamo il podcast Cosa vuol dire essere uno youtuber. Questo è l'episodio 2 e si parla di costi e guadagni. Nella puntata precedente abbiamo parlato di cosa significa essere uno youtuber, quindi i vantaggi, se può essere considerata una carriera e quanto lavoro c'è dietro. Oggi ci concentreremo su due aspetti comunque molto importanti, i costi iniziali e i possibili guadagni. Cominciamo subito. Allora, iniziare una carriera su YouTube richiede alcuni investimenti iniziali. Questo perché all'epoca non c'era tanto bisogno, anche perché si parlava di poche persone che pubblicavano video su YouTube, vi parlo dell'epoca in cui è nato YouTube, come piattaforma, e non c'era molta concorrenza. La tecnologia non era così avanzata e si facevano i video su YouTube così, per pollo divertimento, quindi ci si metteva lì davanti alla videocamera oppure davanti alla telecamera del telefono e si iniziava a registrare. senza sapere, cioè alcuni poi ignari, del fatto che si potesse costruire addirittura una carriera dietro questa piattaforma. Ma nessuno andava a pensare. Invece ad oggi, molti che sono partiti così, adesso guadagnano tantissimo. E quindi, diciamo che ad oggi però la concorrenza è spietata. Sicuramente rispetto al passato ci sono tantissimi YouTuber, ma proprio tanti tanti tanti, che pubblicano video su YouTube e provano a fare di questa loro passione un vero e proprio lavoro. Alcuni per emulare i streamer più famosi, altri perché effettivamente ce l'hanno nel sangue e lo vogliono fare. In ogni caso, appunto, questa carriera richiede degli investimenti iniziali perché c'è tanta concorrenza e c'è anche però tanta qualità. C'è molti YouTuber, cioè la maggior parte, quasi tutti, quando effettivamente pubblicano un video, se pubblicano un video lo fanno di qualità. C'è un contenuto che non è caricato così giusto per, ma è sempre realizzato qualitativamente bene. Quindi, diciamo che per iniziare YouTube come una carriera, quindi per iniziare la carriera di YouTuber, c'è bisogno chiaramente di prevedere dei costi iniziali. È un rischio. È come se ti stessi praticamente aprendo un'attività. Quando apri un'attività ci sono dei costi che inizialmente, è chiaro, può andare in perdita e quindi sono degli investimenti che uno fa a proprio rischio e pericolo, è certo. Però vediamo quali sono questi investimenti, almeno quelli principali. Facciamo una panoramica degli investimenti e dei costi iniziali da considerare prima di iniziare questo come carriera. Innanzitutto l'attrezzatura video è fondamentale. La fotocamera è fondamentale. Una buona fotocamera può costare dai 300 fino ai 2000 euro. Io, ad esempio, registro con l'iPhone 13 Pro. Chiaramente cerco sempre di comunque restare al passo con la tecnologia. Ecco, questa è anche una cosa molto importante. Bisogna restare al passo con la tecnologia per poi appunto man mano evolversi. Diciamo che... Ok, vabbè, poi ci arrivo dopo. Io appunto, avendo l'iPhone che uso per registrare, l'ho pagato 1500 euro, lo uso anche per altri scopi, lo uso proprio come telefono, lo uso anche per montare i video, eccetera, quindi è un investimento che faccio, ma è più... comunque... un investimento per più scopi. E... l'ho pagato 1500 euro, quindi appunto siamo nella fascia 300-2000 euro. oppure appunto anche per quanto riguarda una videocamera. Una videocamera può costare tanto. Una videocamera di fascia medio-alta costa sui 1000 euro. E appunto chiaramente questo prezzo può variare perché appunto può variare la qualità desiderata. dipende da quanto ci vuoi spendere, tanto ci spendi, tanto guadagni di qualità. Poi abbiamo il microfono. L'audio è fondamentale. Abbiamo qui tre possibilità, tre alternative, che è un buon microfono, innanzitutto come tipo questo, per i podcast, per i ASMR, eccetera, che può costare tra i 50 e i 300 euro. Questo è sempre l'ho pagato 50 euro, quindi siamo nel budget minimo. Un microfono importante, laddove il vostro canale YouTube prevede anche questo tipo di contenuti, i contenuti quindi in esterna, anche considerare un microfono wireless per le riprese in esterna e il costo può variare tra i 40 e i 150 euro, più o meno. Poi c'è anche l'alternativa che se non si usa un microfono così a cardioide e collegato tramite USB, c'è l'alternativa del microfono XLR, che di base il microfono costa comunque di meno, però ci vuole comunque il mixer per collegarlo e si acquista di qualità, però servono appunto due supporti, il microfono e il mixer, che può costare intorno ai 100-200 euro, quindi poi il costo del microfono andrebbe ad aumentare. Illuminazione. Illuminazione anche è importantissima, perché se siete in una stanza che non è ben illuminata o appunto volete ricreare un effetto di luce di sottofondo, però poi non avete una ring light che vi possa illuminare bene il viso, ecco ad esempio tutte queste piccole accortenze fanno la differenza, quindi un buon kit di illuminazione ci vuole e di base possono costare intorno ai 100-200 euro. Questo è per l'attrezzatura video, per chi effettivamente va a realizzare un video, quindi per realizzare un video ci vogliono mediamente questi, questi sono i costi diciamo iniziali che vanno affrontati. Poi c'è la questione del software editing. Ci sono i software di editing tranquillamente gratuiti, come CapCut, come iMovie, eccetera, però ci sono dei programmi sicuramente più avanzati per chi vuole portare, chi vuole fare appunto un montaggio sicuramente più di qualità che quindi va a rendere il video più coinvolgente e ti vuole esempio ci sono i programmi come Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro che possono costare dai 20 ai 300 euro, a seconda se si sceglie un abbonamento mensile, un abbonamento annuale oppure che si va a rinnovare una Tantum. Un computer, in ogni caso, qualsiasi contenuto si scelga di portare, appunto per realizzare anche soltanto il montaggio video c'è bisogno di un computer. E un computer anche solo per l'editing video può costare dai 1000 ai 3000 euro, altrimenti se si usa per il gaming, per esempio come è la nostra categoria di gaming, ci sono anche prezzi molto più elevati, 4000-7000 euro e andiamo ad aumentare, ma soltanto se si vuole usare per l'editing video ci possono volere fino a 3000 euro di computer. E poi ci sono tutti gli accessori vari di contorno, quali i treppiedi, le schede di memoria, le batterie extra e questi accessori possono avere un costo tra i 100 e i 500 euro a seconda di quello che effettivamente si vuole andare ad acquistare in più. Certamente un treppiedi è fondamentale per avere un'inquadratura migliore, la scheda di memoria, perché chiaramente quando si va a realizzare un video un video di alta qualità può occupare fino a tanti giga, insomma 40-50 giga anche volendo, batterie per la fotocamera, eccetera eccetera, questi sono costi che poi si vanno ad aggiungere. Io ad esempio, per quanto mi riguarda, ho sempre affrontato così le spese. Ho considerato comunque il fatto di iniziare partendo da zero, quindi mi sono messa anche io, ho registrato con la videocamera, ho iniziato a fare i primi video. E fin lì tutto bene, anche perché poi avevo anche la PS4, quindi utilizzavo, premio il tastino per andare in live e andavo in live con la PS4, quindi non ho avuto inizialmente bisogno di attrezzature esterne. Poi chiaramente ci si evolve, quindi ho iniziato a comprare il microfono, la Ring Light, ad acquistare tante altre cose, vari accessori, però man mano che guadagnavo. Quindi io ho iniziato con una base che di qualità non era ottima, però non è che era proprio bassissima. e poi pian piano ho acquistato i vari accessori, mi sono evoluta a livello di attrezzature e cose così, per far evolvere anche la qualità del canale, tramite appunto i soldi che guadagniamo col canale. Quindi fino a due o tre mesi fa io andavo a zero, perché i soldi che mi arrivavano dal canale io li spendevo per il canale. Per non parlare ad esempio che va considerato anche un costo extra per gli accessori o gli strumenti necessari in base all'argomento trattato. Se parli di make-up devi comprare i prodotti make-up, anche quelli che ti chiedono magari di recensire. Per noi per esempio sono i videogiochi, noi dobbiamo acquistare videogiochi, quindi è un costo extra che noi sosteniamo alle volte sforando il budget, alle volte comunque con i soldi del canale, però comunque ci vogliono dei costi extra in base al contenuto che si vuole portare. E poi c'è la questione del marketing e del branding. Grafiche, loghi, la promozione di un contenuto, per esempio appunto già per quanto riguarda grafiche e loghi, assumere un design grafico oppure comunque, beh, volendo ricreare un logo da soli per il canale si può fare ma richiede tempo e richiede comunque un minimo di base di conoscenze, altrimenti si fa un pasticcio. E assumere un graphic designer per creare dei loghi e delle grafiche personalizzate può costare dai 50 ai 500 euro. Per la promozione di un contenuto, c'è un budget che comunque va messo, c'è un budget che comunque va tenuto in considerazione. Quello per la promozione è fondamentale perché chi parte proprio da zero deve un attimino darsi una piccola spinta, deve promuovere il canale per farlo partire al meglio. E una promozione sui social media può variare dai 100 ai 200 euro, poi ci sono tanti fattori che possono variare, possono cambiare, ma per quello se siete interessati farò un video a parte. E questo e questi più o meno, c'è una panoramica dove mi saranno spuggite un po' di cose, questi sono un po' quelli che riguardano i costi iniziali. Poi ci sono i guadagni. I guadagni su YouTube possono variare enormemente in base a vari fattori, come il numero di scritti, il numero di visualizzazioni, il tipo di contenuto. Ci sono appunto alcune principali fonti di reddito di YouTube, sto parlando, e continuo a parlare solo di YouTube, che sono ad esempio AdSense. AdSense interviene per quanto riguarda le entrate pubblicitarie, quindi YouTube tende a pagare, no tende a pagare, paga, in base alle visualizzazioni degli annunci, e annunci pubblicitari che vi paghiano all'inizio video oppure al centro, diciamo, di un video. I guadagni medi per mille visualizzazioni, chiamato anche CPM in gergo, variano dai 1 a 5 euro, però possono essere anche più alti in base a nicchie specifiche. Poi ci sono le sponsorizzazioni, quindi le partnership con altri brand. I guadagni delle sponsorizzazioni a seconda del numero di iscritti possono variare molto. I micro-influencer, quindi da 10.000 ai 50.000 iscritti, possono guadagnare da 50 a 500 euro in base appunto al contenuto sponsorizzato, al tempo, al tipo di contenuto, eccetera, eccetera. Ad ogni video, quindi parliamo di 50 a 500 euro per ogni video. e i macro-influencer, quindi quelli che vanno oltre i 100.000 iscritti, possono guadagnare migliaia di euro per ogni sponsorizzazione, quindi sempre per quanto riguarda ogni video. Poi abbiamo il merchandising, per chi vuole aprire anche un sito dove si effettivamente vendono i prodotti e usare YouTube come tramite o viceversa. C'è appunto la possibilità di vendita dei prodotti. Alcuni YouTuber infatti creano e vendono i propri prodotti, quindi quelli con le loro facce, con le loro frasi più tipiche, faccio un esempio, magliette, gadget, eccetera, e guadagnano una percentuale su ogni vendita, quindi anche questo può generare una piccola entrata. Poi ci sono le super chat, le super grazie, gli abbonamenti, quindi tutto quello che riguarda il supporto dei fan, che è importantissimo. Durante il live streaming, per esempio, gli spettatori possono inviare un messaggio, un super grazie, oppure una donazione, e alcuni YouTuber appunto offrono anche degli abbonamenti con dei contenuti esclusivi, quindi la gente si abbona e automaticamente riceve quei contenuti esclusivi dedicati agli abbonati. Poi ci sono le affiliazioni, quindi il marketing di affiliazione. Che cos'è? Cosa vuol dire? Vuol dire promuovere dei prodotti o dei servizi e guadagnare una commissione per ogni vendita gestita tramite l'affiliazione. Quindi c'è un link appunto di affiliazione, c'è l'ADV, il famoso ADV, in cui appunto si guadagna una percentuale per ogni ordine fatto su un sito, oppure per ogni acquisto, eccetera, eccetera. e questi appunto sono i possibili guadagni per quanto riguarda appunto YouTube. E' una cosa importante, è fondamentale, non avere fretta, perché i guadagni non arrivano subito, a meno che non fai appunto un... non metti tanto budget per sponsorizzarti il canale, però poi oltre quello, oltre la sponsorizzata, ci devi mettere il tuo, quindi devi portare un contenuto di qualità. Portare un contenuto di qualità richiede dei costi. Questi costi possono variare, sono un investimento, un investimento per carità, come quando tu ti apri un'azienda che è destinato a generare guadagni, ma anche a fallire purtroppo. si spera sempre di no. Ci vuole pazienza e ci vuole costanza e perseveranza. E questo lo continuerò a ripetere ad ogni fine podcast, proprio perché appunto i guadagni non arrivano subito. Ci vuole del tempo per costruire una base di iscritti, per fidelizzare il pubblico, creare un contatto con gli iscritti, che è una cosa molto importante. e fatte tutte queste piccole accortenze, di cui poi continueremo a parlare nei prossimi episodi, perché non è finita qui, da lì si possono generare appunto entrate significative. Alcuni youtuber impiegano mesi o addirittura anni prima di vedere dei risultati considerevoli. E quindi questo, ragazzi. Grazie per aver ascoltato questa nostra seconda parte del podcast su cosa vuol dire essere youtuber. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili. Per qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti se volete conoscere qualcosa si c'è di altro dietro al mondo youtuber. Comunque, nel prossimo episodio parleremo di come buttarsi nella mischia in mezzo a tanta concorrenza. Sarà un episodio molto interessante, non vi voglio anticipare nulla, vi aspetto appunto al prossimo episodio. Grazie e alla prossima. Ciao!